L'incontro di programmazione delle attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti della città di Bari durante il periodo natalizio fa registrare la soddisfazione dei rappresentanti sindacali tornati al tavolo di concertazione con l'assessore alle attività produttive Pietro Petruzzelli. Al termine dell'incontro dello scorso martedì il presidente Casampulanti Unipuglia, il sindacalista Savino Montaruli, presente alla riunione unitamente i rappresentanti delle associazioni confessercenti, un'impresa, Felsa, Cisle, Confcommercio, Fiva, Goya, Fenapia e UGL Terziario, ha spiegato come sia stata elaborata e condivisa la proposta di calendario delle aperture dei mercati nel mese di dicembre e comunque nel periodo natalizio fino a gennaio 2025. Fermere stando le valutazioni affidate all'assessore circa i parelli e le coperture da parte delle ripartizioni interessate sono state condivise alcune proposte dall'apertura per domenica 22 dicembre del mercato giornaliero coperto di Santa Scolastica con l'estensione a tutti i mercati giornalieri coperti al prolungamento per tutti i giorni nel mese di dicembre di un'ora dell'orario di vendita. Quanto al calendario proposto per le aperture nei vari rioni l'assessore Petruzzelli ha spiegato che tutte le valutazioni saranno compiute con i competenti uffici comunali. A parte la stesura delle proposte è stata formulata espressa richiesta affinché venga istituito un tavolo con i rappresentanti dei vari municipi perché il documento strategico del commercio prevede proprio nel periodo natalizio lo svolgimento di eventi e manifestazioni sull'area pubblica in quelle zone del territorio. Inoltre si è chiesto di destinare parte delle risorse investite dal comune per gli eventi natalizi anche per i mercati.